Una rivocazione molto bella davvero, quello che colpisce chiaramente è la partecipazione di tutti i cittadini, per cui si vede che è una festa che entusiasma, che è sentita e questo credo siano i valori più importanti che debbano essere portati avanti in una comunità, lo stare insieme, portare avanti le tradizioni. Si sente, si respira, molto bella. Io sono rimasto colpito positivamente da tutta l'organizzazione, dall'accoglienza, perché devo dire abbiamo passato due giorni veramente meravigliosi. Una cittadina ben amministrata, si vede da come è tenuta la polizia, insomma un'impressione molto positiva.